Siamo nel 1780 a Canton che è una città del sud della Cina e c'è una bambina che ha sei anni che è l'ultima degli ultimi di questa terra nel senso che non conosce i suoi genitori è stata venduta quando era piccolissima a questo uomo crudele che ha una locanda che la picchia che la tratta male in ogni momento e un giorno questa bambina rovescia un vassoio pieno di zuppa addosso dei clienti la zuppa fa un disastro tranne una tazza che viene fermata al volo da un ragazzino che la ferma tenendole in equilibrio sul suo piede con un calcio e lei stupita da questa abilità insomma di movimento il giorno dopo trova il ragazzino e gli dice mi devi insegnare a muovermi come te e questo ragazzino dice guarda mio nonno che in realtà è un vecchio ubriacone una volta insegnava arti marziali alle guardie dell'imperatore forse potrebbe insegnare anche a te la ragazzina accetta e non lo sa ancora ma questo è il primo passo che la porterà a diventare la più grande piratessa di tutti i tempi a capo di una flotta di 400 navi e 30.000 uomini che ci crediate o no è ispirato ad una storia realmente accaduta ero in una fiera più o meno come il salone di montrail dove ci troviamo ora in italia e stavo tornando a casa mia e sulla strada del ritorno treno in ritardo mi metto a sfogliare dei libri e un libro si apre su questo disegno di questa ragazza cinese con una spada e sotto c'era scritto il più grande pirata della storia dell'umanità e io non avevo mai sentito parlare di questa ragazza ero convinto che il più grande pirata della storia fosse barba nera e quindi ho comprato il libro e ho detto voglio saperne di più e ho scoperto che barba nera è il numero due e che la numero uno era il numero uno di due ordini di grandezza barba nera comandava quattro navi e le 400 e mi è sembrata una storia pazzesca ho detto io voglio scrivere qualcosa su di lei a tutti i costi se non che lei era vissuta in cina nel 1800 io non sapevo niente della cina del 1800 ho cominciato a studiare è stata la parte più lunga anche molto divertente del mio lavoro è durata quasi quattro anni tra una cosa e l'altra e man mano che studiavo dal punto di vista del personaggio è stato molto strano per me perché io ho studiato tutta l'epoca storica l'avevo imparata benissimo e non avevo studiato niente di lei e quando ho cominciato a scrivere ero un po preoccupato nel senso che mi sono detto ma come farà questa bambina a diventare la più grande piratessa di tutti i tempi non ero preparato non la conoscevo in qualche modo e la sensazione che avevo io è che è strana la sensazione che è quando scrivi un libro ma la sensazione che lei si è arrivata e mi abbia detto tu non sai come si fa a diventare la più grande ma io si lascia fare me e io ho proprio lasciato che facesse lei e quindi io non ho mai conosciuto il personaggio è il personaggio che conosceva molto bene se stessa io non so come si fa il mio lavoro da un certo punto di vista quando io ho cominciato a scrivere io ero diventato un vero esperto di quell'epoca avevo studiato tantissimo avevo le mappe delle città avevo le mappe delle isole sapevo tutti quei dettagli e mi ero scritto in un foglio un elenco di cento nomi di pirati perché i poeti cinesi avevano questa idea di siccome i nomi cinesi spesso si assomigliano sono sempre le stesse cose tendono a dare dei soprannomi molto evocativi come bonzo rinnegato tigre blu cose di questo genere quindi mi ero segnato cento nomi di pirati da usare al caso in caso di bisogno e io non avevo altro non avevo una scaletta non sapevo che cosa sarebbe successo non sapevo che lei avrebbe avuto dei figli a un certo punto non spero veramente niente e che anche un po la parte bella del mio lavoro nel senso che quando voi prendete un libro il libro c'è e sapete che qualcosa succederà ma quando io lo faccio non c'è niente dopo e il mio lavoro è di entrare in totale sintonia con lei e lasciare che lei faccia quello che vuole come se fosse una persona che in quel momento lista davvero vivendo quelle cose per ogni problema si chiede al meglio delle sue possibilità come superarlo arrivano degli altri personaggi con cui lei interagisce sul momento però non c'è niente di pensato o di controllato è successo e basta dai primissimi capitoli del libro no lei decide di imparare le arti marziali e ovviamente il maestro le dice va vai viene il giorno dopo per il primo allenamento e qui se ci pensate è logico se chiede a qualcuno di insegnarti ti dice vieni che ti insegno e lì ti rendi conto che lei è una bambina di sei anni che è una schiava quindi con zero libertà di azione e deve trovare il modo di andarsene e ti comincia a chiedere come fai e guarda e dovrà distrarre il locandiere come fai a distrarre il locandiere beh c'è una ballerina che ogni tanto passa di chiederà ad una ballerina il favore di distrarre il locandiere finché io scappo e vado a fare questa cosa trova la ballerina convincila e intanto è già un nuovo personaggio una relazione con questo personaggio poi scappa e ti accorgi che sono passati tre capitoli e quando lei comincia l'allenamento in realtà sono già tre capitoli in cui lei famiglia avventure e ti dici a caspita forse in realtà il vero allenamento era riuscire ad arrivare all'allenamento e quindi hai anche capito la personalità del maestro ma tutto avviene finché lo fai non è deciso prima e questo è più emotivo almeno per me perché io così mi diverto di più dal mio punto di vista io sono un lettore però adesso insomma sono qua perché mi piace anche scrivere dal mio punto di vista i romanzi sono solo di due tipi in realtà e sono i romanzi che partono dal principio o che partono dalla fine il giallo il thriller sono quasi sempre romanzi che ruotano intorno al finale il finale quello che dà valore a tutto il resto e i romanzi di avventura sono l'esempio perfetto di romanzo che procede dall'inizio alla fine e dove appunto ogni passo porta quello successivo e non sai mai che cosa succede perché sono interessanti proprio perché ogni posto che vedi ogni cosa che succede ne porta una nuova inaspettata in qualche modo come nell'esempio che dicevamo un poco prima e quindi dal mio punto di vista i libri d'avventura sono tantissimi e spesso anche non è che il libro d'avventura è per forza quello dove ci sono i pirati sì certo spesso sì però può essere in realtà qualunque cosa un fantastico romanzo d'avventura dal mio punto di vista che ne so oh boy oh boy è un romanzo di avventura cambiato nella francia di oggi e non ci sono viaggi ma è un'avventura quello che vivono i fratelli e non pronuncerò il loro nome francese così non faccio brutta figura e ce ne sono stati tanti nella mia vita di romanzi d'avventura fondativi quello che vi nomino adesso perché adesso è il suo cinquantesimo anniversario quindi insomma è l'occasione giusta è la principessa sposa di William Golding che secondo me è un romanzo meraviglioso sicuramente uno dei romanzi d'avventura più più belli mai scritti però non è l'unico da Gary Paulsen che è un autore scomparso da poco che per me è fondativo e ha scritto tante cose bellissime a molti romanzi che hanno scritto miei maestri amici colleghi come gli italiani Pierdomenico Baccalario Guido Sgardoli in Francia Anne Lord Bondu che trovo meravigliosa quando ti ti racconta di questi suoi lunghissimi viaggi e sempre se vi devo dire la verità uno dei romanzi d'avventura cui io sono più affezionato di ogni tempo è sempre francese non so nemmeno come si pronuncia il nome del suo cognome ma il libro è l'orda del vento che invece in francese dovrebbe essere l'orda del controvento di Damasio penso che sia che è un libro che io ho adorato letto e riletto migliaia di volte vedete per esempio l'orda del vento è un libro fantastico secondo alcuni perché non è ambientato oggi però è un libro che parte da una situazione e pagina dopo l'altra ti porta da un'altra parte quindi secondo me è la perfetta avventura Soprattutto io penso nei libri per ragazzi la cosa fondamentale quello che giustifica tutto il cuore davvero del mio lavoro è la parte emotiva sono le emozioni e le emozioni sono il motivo per cui leggiamo i libri e sono anche quello che rendono il libro vivo se il libro non funziona lato emotivo lo lasci perdere ne cerchi un altro e quindi la cosa essenziale di ogni libro per ogni libro ma specialmente di quelli per ragazzi perché si rivolgono a lettori più giovani sono le emozioni e le emozioni esistono perché noi abbiamo un corpo nel senso che tutto quello che noi proviamo nasce dal nostro corpo anche proprio fisicamente dal rossore dal brivido di freddo che della paura e quindi questo aspetto che anche molto fisico è assolutamente centrale nel nel mio lavoro per questo motivo spesso a volte i ragazzi mi dicono il libro parla di te oppure il libro è una storia che tu hai vissuto sul serio e la mia risposta è sempre no io non sono mai stato una ragazza che ha vissuto nell'antica cina e questo è abbastanza evidente però tu non puoi scrivere un libro se le emozioni non le hai provate sulla tua pelle quindi non puoi scrivere una scena d'amore se non sei mai stato innamorato non puoi scrivere una scena di paura se non hai mai avuto paura e da questo punto di vista il corpo è centrale perché è la cosa che ti permette di rendere vivo quello di cui parli